siamo con marco barare raduno quasi a casa quest'anno una novità per te aver iniziato la preparazione in piemonte quindi ti chiedo subito com'è cominciare a pochi chilometri da casa si è quasi raduno a casa insomma mezz'oretta scarsa di viaggio è la prima volta che mi succede è un'esperienza nuova no però è bello e comodo e ci si allena bene anche qui ecco come è stato ricominciare come ti sei trovato con il gruppo di quest'anno ma il gruppo di quest'anno alla fine come quello dell'anno scorso in cui si sono aggiunti i tre ragazzi del 2004 in cui è andato via elia zeni sono per il resto siamo sempre noi e siamo un gruppo che si siamo molto legati fra di noi ci troviamo bene perciò si lavora bene anche la compagnia è piacevole senti su cosa stai lavorando in modo particolare oppure sei cambiato anche qualcosa ma in questo momento sinceramente ci stiamo concentrando tanto sul sul tiro sul lavoro a secco e sul cartone è la parte che mi piace di meno del tiro durante tutto l'anno però è forse quella più importante quella che richiede più tempo da fare in questo periodo della stagione e poi per il resto sul sull'organico stiamo facendo abbastanza volumi e capacità quindi una certa quantità di ore però sfruttando i tanti mezzi che abbiamo a disposizione per allenarci è anche semplice ecco due anni fa aveva avuto una stagione per i tuoi standard un po più complicata l'anno scorso molto bene un bellissimo esordio addirittura anche sorprendente in in ebook up cosa è cambiato ma è difficile dirlo così sono cambiate tante cose forse tante piccole cose che poi alla fine sommate fanno la differenza però penso che a partire dall'anno scorso si è riuscito a trovare il modo di allenarmi e di interagire anche con gli allenatori e si poi mi sono anche allenato abbastanza quindi c'è insomma la somma di tutte le ore fatte di allenamento penso che abbiano dato i suoi propri risultati ecco quanto è stato motivante però per te cioè nel senso anche nell'affrontare una questa nuova preparazione aver visto che il lavoro fatto lo scorso anno ti ha portato addirittura già la cerimonia floreale in ivk si è motivante sicuramente però è molto stimolante perché alla fine è la prova che basta allenarsi impegnarsi e darci dentro che poi alla fine si può fare ecco anche perché quest'anno avrete pure l'occasione di allenarvi in alcuni raduni con gli atleti alcuni atleti del gruppo milano cortina 2026 quindi anche la dimostrazione che siate tenuti molto in considerazione sì questa è una cosa fantastica mi sembra che facciamo possiamo fare tre raduni con loro con i ragazzi della squadra milano cortina e questo sì io lo vedo come un'ottima cosa perché vuol dire che ci tengono in considerazione seppur più piccoli e poi ci danno una grande opportunità perché comunque allenarsi con i ragazzi che hanno più esperienza che sono più grandi e che hanno già fatto più anni in squadra c'è sempre qualcosa da imparare ecco elia zenia partecipato già al mondiale assoluto quest'anno è in squadra a per tanti anni ti si è allenato con lui anche questo uno stimolo in più vedere lui lì magari la voglia di raggiungerlo sì ci siamo allenati tre anni mi sembra assieme con lui mi trovo bene davvero bene e sinceramente sono molto felice per lui di come è andata la sua scorsa stagione e di come sta andando per lui adesso per noi sicuramente lo stimolo perché fa vedere come un gran lavoratore come lui possa arrivare facilmente fra virgoletto rapidamente ecco ai ai circuiti più alti